il muro della baci che esiste quindi fallo laterale libertini lo batte dentro una rovesciata che attraversa tutta l'area di rigore ci ha provato mauro morezzi quei uomini addirittura morezzi con l'esterno d'anversa di prima da morezzi dal fondo morezzi palla che attraversa tutta l'area e finisce fuori per un calcio d'angolo parte lo specialista angele e va sul palo la ribattuta è buona e di mauro morezzi che naturalmente non esulta è la sua ex squadra ma è un gol di fondamentale importanza per la gol bet che trova l'uno a due ma la fa sua sono gli ultimi palpitanti istanti di una gara che non ci aspettavamo assolutamente di questo tenore in avvio quando vedevamo i giocatori di baci anche abbastanza rassegnati qui morezzi il tiro che passa ed è l'errore di salvatori è la doppietta soprattutto di mauro morezzi due a tre gol bet praticamente all'ultimo respiro